Ringrazio l'associazione Tetris che ci ha ospitato qui a Palazzo Fuggiato, a Danza Grande. Per me è un nuovo importante, intanto perché ho sempre desiderato visitarlo e la prima volta è stata veramente emozionante. Poi diventa una location importante per me anche perché proprio qui di fianco c'era la bottega del Caballero al quale abbiamo dedicato un altro brano all'interno del nostro disco Palazzo.